Smaltita la delusione per la vittoria sfumata contro la Roma nei minuti di recupero, in casa Catania resta adesso la consapevolezza dei propri mezzi e in fondo la soddisfazione per aver tenuto testa ad una delle squadre più ostiche del campionato. Archiviato il lunedì di riposo, oggi si riparte dunque da qui, provando a concentrarsi solo sul prossimo impegno senza pensare alle tante troppe voci di mercato che inevitabilmente a tre giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative rischiano di disturbare la preparazione. A cominciare dalle sorti di Giovanni Marchese, che pur pedina inamovibile, ha però preso tempo prima di accettare l'offerta di Gasparin. La di Etneo dal canto suo sembra chiudere almeno a parole il discorso Gomez, ma l'interesse concreto del Genoa potrebbe, solo a certe condizioni, rimettere tutto in discussione. Discorso diverso sull'asse Catania-Grosseto, dove indiscrezioni parlano di una corposa proposta di Nicola Salerno per prendere l'attaccante Ferdinando Sforzini. 1.700.000 euro in contanti, una quota per la corresponsione dello stipendio a ricchiuti, Ducarà e Moretti a titolo definitivo e Augustin in prestito, con diritto di riscatto. Frena però il DS Vincenzo Minguzzi, che per Sforzini nega qualsiasi offerta da parte degli etnei. Stiamo valutando solo la proposta del Verona a messo, del Catania seguiamo sì i ricchiuti, ma Augustin e Moretti non ci interessano. L'ex Rimini sembra comunque seguito anche dall'Ascoli, mentre il Novara sembra ormai troppo lontano. Insomma, solite indiscrezioni e smentite di calciomercato, solite tattiche di fine agosto, solita frenesia degli ultimi giorni. Maran intanto, questo pomeriggio in campo con i suoi alle 17.30 per la ripresa, pensa solo al Genoa, prossimo avversario casalingo al Massimino, con la speranza di agguantare quella vittoria sfumata ingenuamente nella capitale.